Buongiorno, oggi è il 3 dicembre, la memoria di San Francesco Saverio, un ipermissionario, patrono delle missioni, è andato in tutto l'estremo oriente, di grande insegnamento per tutti noi, il suo zelo apostolico verso davvero gente che non conoscevano minimamente il Vangelo. Oggi il Vangelo ci regala la guarigione di due ciechi e Gesù chiede, credete voi che io possa fare questo? Vedete, ancora una volta dobbiamo ricordarci che la fede è uno dei presupposti dei miracoli, la fede non è generata dai miracoli, tant'è vero che in un brano molto famoso ci viene detto che Gesù non poteva operare miracoli a causa della loro mancanza di fede. Questo vuol dire che i grandi misteri di Dio possono essersi fatti in modo assolutamente privo di collegamenti, ma tante volte è il nostro atteggiamento di fondo che ci aiuta, la disponibilità al fatto che il Signore possa operare e questa è la fede radicale che è una disponibilità alla vita, una disponibilità a pensare che la nostra esistenza sia protesa verso la felicità, una disponibilità a far sì che appunto regni ciò che è buono, ciò che è bello, ciò che è bene nella nostra esistenza e nella vita degli altri. Ecco, apriamoci a questa fede radicale affinché il Signore possa agire per tutti gli altri miracoli necessari a noi e agli altri. Ciao a tutti e buona giornata.